Insalata di ceci e cipolla di tropea. Ci sono ricette che possono essere preparate con gli ingredienti di stagione e sono sicuramente un'ottima alternativa ai piatti più complicati. L'insalata di ceci e cipolla di tropea è una di queste. Un piatto semplice ma saporito, perfetto come antipasto o come contorno durante il mese di gennaio. La ricetta è semplicissima da realizzare e prevede l'utilizzo di pochi ingredienti, come ceci, cipolla rossa di tropea, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Per preparare l'insalata di ceci e cipolla di tropea inizia con l'ammollare i ceci in acqua fredda per almeno 8 ore. Trascorso questo tempo, scola bene i ceci e trasferisceli in una casseruola con abbondante acqua fredda. Cuoci i ceci a fuoco medio per circa 40 minuti, fino a quando non risulteranno morbidi ma ancora sodi. Scolali e lascia intiepidire. Nel frattempo, lava e monda la cipolla di tropea, poi affettala sottilmente. Trasferisci la cipolla in una ciotola capiente. Unisci i ceci scolati e condisci con un filo d'olio extravergine di oliva, sale, pepe e un po' di succo di limone. Mescola bene e servi l'insalata di ceci e cipolla di tropea ben fresca.